Oggi, oi, oh ma andate qui, ma non fermate, oh ma non fermate. A louder, a louder. Marodu tusi. Ma non va a farà fare il piccolo di un po' se io... Ho 보�o con me! Ma che te ne sono? Noi sono, è verità. Facciamo 1000 euro a settimana. Bellissima. E noi accotti, ma? Alla accotti, mi chiedi un attimo abbassare la spagna, poi c'è un'altra domanda. Ok, ok, ok. Alla prossima. Alla prossima. Alla prossima.